ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo durante un'esplorazione urbana in una casa abbandonata un esploratore riprende con la sua telecamera l'apparizione di quello che sembra essere uno spirito che si manifesta apparendo proprio davanti agli occhi dell'esploratore che non può fare altro che abbandonare il più velocemente possibile quel posto il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato durante il concerto di una cantante molto famosa in colombia un operatore nota un comportamento strano da parte di una ragazza a quel punto decide di riprenderla ma proprio mentre la sta filmando la ragazza si gira mostrando il suo viso ciò che viene ripreso è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento riusci a fare l'elevano i Il prossimo video è stato ripreso in Colombia Il filmato mostra un edificio abbandonato Edificio che è anche pericoloso entrarci Anche perché è a rischio crollo Durante la registrazione succede qualcosa di terrificante Dall'interno di questo edificio si sente un urlo agghiacciante Il tutto ripreso e documentato Il video è davvero impressionante Ma andiamo a guardare il filmato Il filmato Il filmato è aperto Il filmato è solo Il filmato è aperto Il filmato è überro I wish Il filmato è davvero Il filmato è veramente Il filmato è disperato Il filmato è apparito Un uomo di nome Sebastiano stava tornando a casa sua in macchina Quando ad un tratto nota qualcosa di strano in mezzo ad un prato L'uomo si ferma e comincia a riprendere quella strana creatura Ciò che viene filmato è davvero incredibile Ma andiamo a guardare il documento Un uomo di nome Daniel ha portato questo filmato catturato da una telecamera di sicurezza Il filmato mostra l'apparizione di uno spirito che si muove nella stanza In un modo davvero strano e ambiguo Il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento Grazie a tutti E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi Il video finisce qui Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima Ciao 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 Ciao